buongiorno signori sono l'uomo di casa oggi parleremo di una taglierina di precisione questa che vi sto mostrando in questo momento del brand wolfcraft quando l'ho vista sinceramente ho detto boh strana infatti sembra una forbice una taglierina non si capisce bene ma fa delle cose veramente pazzesche come si fa a provare una taglierina beh l'unico modo è tagliare e per darvi un'idea di quello che faremo oggi adesso qui comparirà tutta una serie di elementi che io ho provato a tagliare con dei risultati ma non ve lo voglio neanche dire vi lascio al video e vi lascio vedere con i vostri occhi che cosa è in grado di fare questa taglierina detto questo non voglio tridiarvi oltre quindi pollice in su iscrivetevi al canale condividete questo video con i vostri amici e buona visione a tutti bene signori come potete vedere la nostra taglierina di precisione è molto semplice è formata da una taglierina a forma di parallelepipedo quelle che si vendono per i taglierini quindi sono comunissime e ha la forma praticamente di una forbice con una sola lama nella parte superiore anche un blocco per poterla tenere chiuse maniera da non farsi male e la lama è lunga 61 mm ora andiamo a provarla grazie a tutti 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 giro per casa cercando roba da tagliare, veramente uno spettacolo, sono molto molto contento di questo attrezzo che entrerà prepotentemente a far parte della mia cassetta degli attrezzi e spero che tutti voi possiate averla perché veramente ha un'utilità pazzesca. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto, spero soprattutto che vi sia stato utile, come al solito se avete delle domande fatele pure qui sotto nei commenti e io come al solito vi risponderò. Detto questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo! Video!